... Beh, chi pensavate che c'è? Beh, è uscito Brad Pitt. Io sono l'ultimo dei grandi guerrieri ninja, maestro di arti marziali dalla famosa palestra orientale del sud del Giappone, la Shittu Usang. La Shittu Usang Quando sono nato io, quella notte il ginecologo, per potermi dallo schiaffo, ho dovuto chiamare quattro buttafuori. Non ci riuscivo, ci paravo tutti i colpi, ci paravo. Non ci riuscivo, ci paravo tutti i colpi, ci paravo tutti i colpi, ci paravo. Quello che vedete dalle mie spalle si chiama Katana. Era di un grande samurai, Nicolo di Bari, che ce l'ha data mio nonno, mio nonno l'ha data mio padre, mio padre l'ha data a me, io ce l'adoro ai miei figli, sai come la chiamiamo questa qua noi? La Katana di San Dandone.